buongiorno mi sentite tutto ok perfetto allora buongiorno a tutti molti di voi mi conoscono sono sandy petrossi sono una funzionaria a supporto dell'autorità di gestione laura comelli della quale oggi porto i saluti perché non ha potuto partecipare per impegni progressi come sapete la regione friuli venezia giulia autorità di gestione non solo del programma di cui voi siete attuatori e quindi della programmazione 2014 2020 ma anche della programmazione in corso avviata 2021 2027 per quanto riguarda la programmazione 14 20 devo dire che grazie al raccordo tra non solo le strutture di gestione ma soprattutto con voi beneficiari che in tutto 7 oltre 360 367 è stata diciamo assicurata la regolare attuazione del della programmazione e quindi di tutti i progetti finanziati e anche grazie attraverso molti molteplici diciamo attività di comunicazione informazione non da ultimo il 21 settembre con l'organizzazione di una fiera dei progetti nell'ambito della european cooperation day a cui il programma intera che traslovenia ogni anno rinnova l'intenzione insomma l'adesione a un'iniziativa che ha un ampio respiro quindi una attività promotori promotrici della visibilità non solo dei progetti ma anche del programma di cui voi siete testimoni testimoni dei risultati che avete conseguito quindi con risultati concreti sul territorio e quindi a beneficio di un intera area quindi parliamo appunto di sforzi organizzativi che sono che non si sono fermati neanche durante la pandemia e post pandemia che sicuramente ha messo dura prova l'attuazione del programma sul fronte operativo ci tengo a dire che su 58 progetti 55 sono conclusi gli ultimi tre dovrebbero terminare a breve e quindi si avvia tutta la fase già avviata una fase di chiusura e quindi una fase di supporto ed è il motivo per la quale abbiamo organizzato questo questo webinar questo incontro il termino dicendo che anche a livello finanziario il tar di spesa è stato ampiamente raggiunto se non superato nel 2022 questo a beneficio del 2023 il programma tra l'altro ha subito un'ultima modifica non so se lo sapete questo è stato pubblicato anche sul sito il programma 2014 è stato modificato la modifica è stata approvata dalla commissione una modifica che si era resa necessaria per una questione di adeguamento degli indicatori e dei piani finanziari comunque insomma tornando ai progetti finanziati ea voi beneficiari che avete reso possibile la corretta attuazione di tutto il ciclo progettuale è chiaro che questi i risultati sono frutto di un una sorta di consolidamento di un partenariato trasfrontaliero che più che mai maturo consapevole e i risultati del bando di capitalizzazione cielo con cielo confermano un partenariato che comunque ha saputo durante questi diversi cicli di programmazione rafforzare la coesione dell'area programma contribuendo ecco una cosa che piace molto la commissione contribuendo alla rimozione dei cosiddetti ostacoli alla cooperazione in molti settori e comunque a beneficio dell'intera cittadinanza perché no anche a livello europeo con con il trend appunto della capitalizzazione e quindi comunque adesso mi taccio lascio la parola ai colleghi che ringrazio a nome anche dell'autorità di gestione dottoressa laura comelli per aver organizzato questo workshop che sarà sicuramente molto utile a a tutti prego claudia ho grazie sandy quindi come da programma direi di iniziare con la presentazione adesso vorrei condividere il powerpoint che ho preparato sul tema appunto delle relazioni finali relazioni finali che voi progetti dovete diciamo preparare alla fine del vostro ciclo di implementazione progettuale parlerò in italiano l'interpretariato è attivo se però qualcuno mi pone una domanda in sloveno risponderò in sloveno vi ricordo vi ringrazio visto che avete fatto vi ringrazio se cambiate il nome diciamo mettete nome cognome e acronimo così vediamo un po quali progetti sono stati presenti ho notato guardando l'elenco dei presenti che per alcuni progetti siete diciamo diversi partner questo ci fa piacere perché la relazione finale non è solamente questione di lead partner ma è un lavoro che coinvolge tutti i partner quindi è giusto che oggi si siano coinvolti il più possibile per rendersi conto che dare le informazioni alle partner al momento giusto aiuta a fare una relazione fatta bene e quindi che non necessita di richiesta di integrazioni e la liquidazione diciamo del saldo può avvenire in modo più veloce solo per fare un ripasso voi lo conoscete però insomma funziona sempre allo stesso modo ovvero voi avete fatto un progetto più o meno sono sono conclusi praticamente tutti avete fatto dei rendiconti il first level control cioè controllo di primo livello ha controllato i vostri rendiconti vi ha emesso delle convalide queste convalide vanno diciamo date al lead partner il lead partner ogni sei mesi quindi prepara una relazione di attività semestrale assieme alla relazione prepara la richiesta di rimborso questa arriva alla dg la dg assieme al js verifica una volta che tutto a posto manda all'autorità di certificazione il diciamo la checklist sulla base della quale l'autorità di certificazione liquida e liquida il partner e poi il partner ha 30 giorni per diciamo mandare per diciamo per dare i soldi ai propri partner a fare il trasferimento cosa succede succede che alla fine del progetto bisogna fare l'ultima relazione che è una relazione attività quindi va fatto una relazione attività normale con una richiesta di rimborso solo che riguarda tutto il progetto quindi il ciclo è sempre lo stesso solo che l'ultima relazione è un po speciale rispetto alle altre ricordo che da contratto di finanziamento l'ultima richiesta di rimborso con la relazione finale deve essere inoltrata dal lead partner all'autorità di gestione ovvero al js entro due mesi dall'ultima convalida ricevuta cioè dall'ultima convalida dell'ultimo partner che riceve la convalida quindi finché l'ultimo partner cioè non arriva l'ultima convalida dell'ultimo partner che deve riceverla non è necessario inviare la relazione detto questo consiglio di insomma cominciare a farla prima perché dalla conclusione del progetto all'arrivo dell'ultima convalida per il ciclo che avete visto prima ci passano molti mesi di conseguenza recuperare informazioni a progetto concluso è molto difficile quindi al di là delle convalide insomma appena si concludono le attività progettuali è consigliabile cominciare a scrivere la relazione finale quando ancora i partner sono collegati collaborano e presenti per motivi anche appunto finanziari la relazione finale deve essere presentata dal lead partner compilando diversi file in collaborazione con i partner ovvero il classico file della relazione finale cioè il file excel assieme al quale mandate insomma la richiesta di rimborso e poi un allegato alla relazione finale che è un file word che insomma in qualche modo contiene una serie di punti che ci permettono di verificare se quanto scritto nell'application form tenendo conto delle modifiche e di tutto quello che ci avete richiesto nell'arco della preparazione diciamo implementazione del progetto è in linea con quanto fatto quindi cosa rispetto all'application form è diverso nell'implementazione e in questo legato ce lo dovete spiegare oppure come avete fatto quanto descritto nell'application form è visibile in questo legato quindi la relazione finale cioè l'excel finale e l'allegato alla relazione finale devono riguardare tutto il progetto e non solamente gli ultimi sei mesi no l'ultimo periodo allora la relazione finale e l'allegato soprattutto l'allegato alla relazione finale deve essere compilato in entrambe le lingue questo non è perché noi vogliamo in qualche modo che tutto sia bilingue ma è perché tutti i documenti sono diciamo a disposizione degli audit degli audit sia italiano che sloveno e a disposizione dei membri del comitato di sorveglianza quindi devono essere entrambe le lingue perché noi non possiamo farci carico della traduzione motivo per cui il file ha soprattutto l'allegato alla relazione finale ha proprio due sezioni una in italiana una in sloveno e devono essere compilate entrambe comunque siete dei partenariati quindi potete aiutarvi per le traduzioni che devono comunque essere corrette non utilizzando dei traduttori automatici online tutte le attività che vanno inserite vanno inserite nell'ottica di progetto e non nell'ottica di singoli partner ci sono delle sezioni in cui si specifica forse chi ha fatto cosa ma sostanzialmente la visione deve essere progettuale e abbiamo comunque delle sezioni dove indicato il numero massimo di caratteri e vanno in qualche modo compilate nel modo più chiaro possibile c'è una sezione in inglese iniziale che è la sintesi del progetto e quella ci serve perché noi come sapete facciamo magari qualche pubblicazione o ci viene chiesto di cosa si occupa il progetto e quindi ci serve avere già pronto una descrizione. È molto importante anche che vi ricordiate di mandarci l'allegato alla relazione finale in un formato Word proprio per poter copiare determinate parti qualche volta ci viene inviata la relazione scansionata perché comunque la relazione è in forma di dichiarazione quindi è giusto che abbia una firma però appunto proprio per questo necessitiamo che ci sia anche il file Word quindi che cosa abbiamo? Cosa dobbiamo preparare? Oltre all'Excel della relazione attività, oltre alla richiesta di rimborso e all'allegato alla relazione finale che è un documento Word dobbiamo ovviamente dare una serie di documenti quindi che cosa? Tutto quello che ci serve per capire se avete fatto il progetto in linea con quanto dichiarato in linea con il contratto di partenariato e in linea con il contratto di finanziamento quindi materiale che comprova la realizzazione dei risultati proprio una sezione dell'allegato alla relazione finale dove dovete elencare quali sono stati gli output o il deliverable e dovete allegare alla relazione, dopo vi dirò come, ciò che comprova che avete fatto quindi era previsto un workshop, dovete metterci, non lo so, i powerpoint, le foto e i fogli firme avete fatto una pubblicazione, dovete mandarci il pdf e dovete anche mandarci la pubblicazione in tre coppie avete fatto dei piani, dei report, qualsiasi documento è stato fatto per ogni WP quindi va caricato in una USB perché appunto spedirli è difficile e noi lo utilizziamo per verificare se ciò che avete detto nell'application form è stato realizzato ovvero come è stato realizzato poi appunto ci servono tre coppie di tutti i materiali prodotti fisicamente quindi magliette, gadget, pubblicazioni, libri quindi qualsiasi cosa sia stata creata materialmente con il progetto ci deve essere consegnata in tre coppie perché tre coppie? Perché noi abbiamo la parte slovena, abbiamo il Friuli Venezia Giulia e il Veneto come partner diciamo principali quindi ognuno di loro deve avere una coppia di tutti i materiali prodotti per cui insomma questo va trasmesso poi se ci sono stati investimenti o d'acquisti di attrezzature è necessario che voi alleghiate il materiale che comprova la proprietà quindi il libro cespiti, il documento, l'estratto del registro dei beni, dell'attrezzatura oppure se avete fatto degli investimenti, il registro di proprietà e cose di questo tipo c'è cosa, qualsiasi documento che ci dimostra che è stato effettivamente acquistato e rimane al partner che l'ha acquistato eccetera eccetera e poi ovviamente ognuno di voi ha comprato cose diverse i documenti possono essere diversi ma il concetto è comprova del fatto che è stato acquistato messo a libri e di proprietà di colui che ha ricevuto i soldi per acquistarlo e poi ci sono le dichiarazioni sul vincolo di destinazione appunto tutti questi tre punti sono se pertinenti perché se avete acquistato qualcosa allora dovete dichiarare che c'è il mantenimento del vincolo per cinque anni e questa dichiarazione deve essere preparata dal partner che ha acquistato quindi non necessariamente solo il lead partner il lead partner deve comunque fare una dichiarazione poi gli altri se hanno acquistato se ci sono entrate ci sono degli allegati pertinenti all'effettiva realizzazione delle entrate questo nel vostro caso devo dire che sono veramente pochi quasi nessuno i progetti che hanno avuto entrate se la dichiarazione è stata firmata in confirma autografa allora ci vuole la carta di identità delegale rappresentante e poi appunto la chiavetta USB con tutti oltre alla relazione l'allegato e la relazione finale tutti i documenti che comprovano la realizzazione di qui sopra no we transfer no link perché noi non abbiamo i blocchi regionali non ci permettono di scaricare la maggior parte dei documenti ci vuole l'USB e quello che è importante è che i nomi file non siano troppo lunghi non abbiano caratteri speciali non abbiano punti perché o caratteri speciali appunto come le pipette eccetera perché non ci permettono di copiare o aprire gli allegati quindi vi prego di fare attenzione cercare di metterli in ordine diciamo secondo i WP o comunque un ordine non tutti insieme in radice ma cioè in un'unica cartella ma insomma in qualche modo organizzati per aiutarci a trovare quanto serve ma per favore fate attenzione ai nomi file non usate caratteri speciali e non usate nomi lunghi o troppe sotto cartelle perché ci dà problemi poi nel copiare o aprire i file lo dico proprio queste sono necessità pratiche spero che non vi dispiace però alla fine agevole il lavoro di tutti poi ci sono le piste di controllo che sono obbligatorie e vanno compilate una per ogni partner e c'è la dichiarazione Covid perché molti di voi hanno avuto delle attività progettuali durante il periodo in cui c'è stato il Covid molte attività sono insomma dovute cambiare è stata mandata a tutti ma è anche sul nostro sito la dichiarazione da compilare tutte le informazioni e i documenti che dovete creare si trovano nella sezione attuazione progettuale del nostro sito capitolo documenti per i beneficiari quindi attenzione vi abbiamo già scritto che avendo adesso il sito della programmazione 21-27 l'URL del vecchio sito è diverso è cambiato c'è un 2014-2020 prima perché appunto per non confondere nuovi e vecchi progetti quindi ricapitolando relazione attività finale quindi quella relazione Excel classica dove voi a tendina sceglierete relazione finale invece di primo, secondo, terzo, quarto periodo l'allegato alla relazione finale che è un documento Word che dopo se volete scorriamo in cui mi inserite tutte le informazioni necessarie gli allegati da 1 a 10 che sono quelli che ho elencato cioè le piste di controllo la carta entità se necessario documenti che comprovano l'acquisto dei beni e delle infrastrutture eccetera eccetera l'ultima richiesta di rimborso tre copie di tutto il materiale prodotto e la chiavetta USB contenente tutti i file relativi al vostro progetto la relazione attività finale l'allegato alla relazione finale e gli allegati all'allegato e l'ultima richiesta di rimborso il più possibile vanno inviati dal lead partner sulla nostra PEC finanze certe regione attenzione perché la nuova programmazione è un'altra PEC ma per la vecchia manteniamo sempre finanze certe regione e poi all'indirizzo JS o Monit o JTS o entrambi allegate alla PEC quello che potete nel limite delle dimensioni proprio per questo c'è l'USB una nota di accompagnamento è fondamentale nella quale ci spiegate che cosa è allegato alla PEC e che cosa arriverà poi via posta invece le tre copie del materiale prodotto quindi gadget eccetera pubblicazioni tutto quello che è prodotto fisicamente e la chiavetta USB contenente tutti i file che avete spedito via PEC e tutto quello che non siete riusciti ad allegare e che invece noi richiediamo va inviato a noi fisicamente che siamo in via del lavatoio però il nostro protocollo si trova in corso CAVUR quindi voi dovete inviarlo all'Interreg Italia Slovenia segretarato congiunto il nostro indirizzo presso la regione autonoma scrivere relazione finale progetto e indicare l'acronimo e poi questo ci viene recapitato in via del lavatoio tutte le informazioni su come fare la relazione finale si trovano come vi dicevo prima sul nostro sito nella sezione attuazione progettuale del vecchio sito quindi l'URL è diverso appunto 2014-2020 lo abbiamo mandato via email e appunto molto importante è l'allegato alla relazione finale mi dedico un secondo alla parte della comunicazione che è molto importante perché all'interno del legato alla relazione voi dichiarate una serie di cose tra cui che il sito internet è aggiornato ora questa cosa non accade mai nel senso che voi vi dimenticate nel senso viene dichiarato che è aggiornato ma poi purtroppo molto spesso non è aggiornato il sito internet deve essere aggiornato al passato e deve contenere tutte le informazioni del progetto al passato ovvero uno che va sul sito sulla vostra pagina ufficiale deve capire che cosa avete fatto quali sono state le attività i derivable cosa avete prodotto chi è stato coinvolto e come avete portato un contributo sul territorio questa cosa è fondamentale perché il nostro sito è l'unico luogo dove poi la gente va a cercare i progetti già finanziati per vedere cosa avete fatto per contattarvi perché chiunque di voi abbia fatto dei siti che comunque non erano diciamo costi ammissibili ma avete fatto le vostre cose dovete ragionare che il nostro sito è comunque luogo dove chiunque va a cercare un progetto finanziato da noi quindi è una vetrina molto importante e quindi va aggiornato al passato quindi il progetto si è occupato ha prodotto ha coinvolto e ha portato sul territorio determinate benefici e trovate i numeri o aggiornate i numeri di dove potete essere contattati dovete caricare tutti i documenti prodotti quelli perché sono comunque prodotti a disposizione della cittadinanza dovete caricare powerpoint video gallerie qualsiasi cosa che faccia vedere quanto lavoro avete svolto e come l'avete svolto per un pubblico normale questo è fondamentale non viene pagato il saldo finché non è a posto quindi è molto importante che è la parte comunicazione poi ricordatevi le tabelle sugli investimenti è necessario che gli investimenti abbiano apposta la tabella di un metro per un metro e mezzo comunque ci si è sentiti durante l'attuazione progettuale anche in casi speciali di paesaggistiche per cui insomma le tabelle hanno potuto avere dimensioni diverse però devono essere esposte perché nella relazione voi dovete mettere la foto della tabella esposta questo è il nostro sito appunto vi ricordo il vecchio sito qui trovate la sezione progetti finanziati qui ci sono tutti i vostri progetti della vetrina voi avete il vostro profilo utente attenzione perché questo url anche è cambiato per entrare dovete aggiornare tutto mettere le news noi controlliamo tutto e purtroppo non possiamo andare avanti finché non è tutto a posto ma questo perché è impossibile poi contattarvi dopo la fine del progetto perché cambiano le persone il progetto si chiude i partner sono più a posto è il motivo per cui vi consiglio di fare la relazione finale immediatamente dopo la chiusura delle attività e anche per questo perché aggiornare un sito otto mesi dopo è molto difficile quindi vi consiglio di farlo subito noi siamo a disposizione verifichiamo al vuolo e possiamo darvi indicazioni questo è il vostro back office che ben conoscete quali sono i motivi per cui non pubblichiamo a volte le vostre aggiornamenti e perché vi dimenticate di mettere l'acronimo nei testi o nel titolo quindi non si capisce di che progetto si tratta a livello di news perché non usate il font giusto o non mettete le immagini perché non si capisce se è una news o un evento o perché magari vi dimenticate di mettere le informazioni nella home oppure perché non è al passato aggiungo o perché non avete elencato le attività e le ricadute sul territorio non vi chiedo di scrivere nel VP1 abbiamo fatto nel VP2 abbiamo fatto ma vi chiedo di scrivere e descrivere cosa avete fatto quali sono le vostre le cose che avete ottenuto raggiunto chi avete coinvolto quindi la cittadinanza se è stata coinvolta come e che cosa il territorio ha avuto come beneficio questo è quello che noi vogliamo dal contenuto della vostra pagina del sito spesso non avete messo in agenda le informazioni e non vi ricordate di aggiornare anche le informazioni proprio nelle sezioni del sito a livello di obiettivi attività eccetera e l'ultimo momento utile per farlo è appunto chiusura progetto ecco questo per quanto riguarda le relazioni finale vorrei far sfogliare con voi se sono nei tempi appunto l'allegato alla relazione finale ditemi se lo vedete per favore si vede l'allegato alla relazione lo vedi il world allora ricondivido forse devo prendere proprio ecco ok adesso si vede giusto allora questo punto è l'allegato che penso che molti di voi l'abbiano già aperto per vederlo qualcuno probabilmente lo sta già compilando ci sono delle note iniziali e l'allegato diciamo contiene una parte iniziale in cui ci sono i dati del progetto il finanziamento chi è il lead partner chi sono i partner chi sono i partner associati insomma un riepilogo poi c'è appunto una sintesi del progetto in cui vi diamo anche indicazioni su come scriverla e questa è quella famosa parte che deve essere scritta anche in inglese poi cominciamo con le sezioni che si dedicano all'attuazione progettale quindi quali sono gli impatti risultati conseguiti quali sono le realizzazioni anche qui vi ricordiamo delle tre coppie quindi l'output l'indicatore se l'avete raggiunto non l'avete raggiunto anche questo viene verificato in base a quanto dichiarato nell'allegato 3 allegato al contratto di finanziamento in cui voi indicate qual è il valore dell'indicatore che intendete raggiungere noi verifichiamo se è stato raggiunto se no e perché no in generale i progetti sono delle cose che si creano in itinere uno scrive un application form non è detto che poi questo progetto vada esattamente come scritto anzi è normale che ci siano state delle modifiche delle variazioni perché appunto proprio durante l'attuazione succedono cose per cui si decide di cambiare rotto e anche giustamente ecco tutto questo deve venire fuori da questa relazione e nessun problema non è sbagliato anzi di solito i progetti che hanno delle modifiche perché ci si è resi conto che è meglio fare diversamente o più utile eccetera quindi qua vengono inserite appunto qual è l'approccio quali sono le cose che avete prodotto e poi c'è tutta la parte della comunicazione molto importante perché come sapete la comunicazione è quello strumento per cui noi riusciamo a far sapere al territorio che cosa siamo andati a fare perché e come abbiamo speso i soldi della Commissione Europea questa è la realtà e è molto importante che sia svolta nel migliore dei modi con le dovute attenzioni con la dovuta attenzione e in modo professionale più possibile quindi qui c'è tutto il capitolo sulla comunicazione dove dovete anche dimostrare che avete messo a posto la targa che avete fatto degli eventi quante persone avete coinvolto eccetera eccetera insomma penso che non sia nulla di difficile in questo punto dichiarate che avete aggiornato il sito vi ripeto molto spesso dichiarate che l'avete aggiornato e poi il sito non è aggiornato e se avete fatto degli studi qual è l'impatto sulla cooperazione un ulteriore impatto i target group insomma investimenti attrezzature qui dovete elencare tutte le cose che avete acquistato per ogni partner e indicare anche gli estremi del del registro o quello che è insomma il luogo dove registrate i beni e le attrezzature e questi documenti poi devono essere allegati pari opportunità eccetera indicatori quindi come li avete raggiunti ovviamente scegliete il vostro asse di riferimento perché è chiaro che questa è una relazione che vale per tutti e poi viene adeguata quando e come avete fatto il trasferimento dei fondi vi ricordo che avete 30 giorni per trasferire i fondi dal partner al partner inoltre ogni volta che fate il trasferimento dovreste mandare una mail al JS in cui ci avvisate che l'avete fatto questa cosa viene dimenticata spesso è scritta nel contratto di finanziamento ma non viene fatta ogni volta che un lead partner fa un trasferimento dei fondi dovrebbe avvisare il JS nella relazione finale noi lo verifichiamo poi c'è l'elenco dei partner perché magari a fine progetto sono cambiate le persone quindi si mettono le persone e poi ci sono tutta una serie di dichiarazioni necessarie questo è la dichiarazione del mantenimento del vincolo c'è l'elenco degli allegati necessari eccetera eccetera e poi c'è la parte in slovena che è totalmente identica ecco questo è quanto vi ricordo che se volete fare come abbiamo anche indicato in chat volete fare delle domande c'è adesso la possibilità a fine diciamo evento attraverso slido ora vado e vedo se ci sono domande e vi chiederei di dirmi se vedete la condivisione spero di essere stata chiara e appunto adesso passiamo alle domande sì sì non so se vuoi provare a rispondere a fare chiarezza Urshka Lazar investe in a cosarne il progetto ne vengono il tecnico che vedete il walk of peace allora io chiederei se hanno scritto in slido adesso sto condividendo ditemi se vedete grazie Martina se vedete il slido adesso passo alla risposta delle domande vedi slido sì vedi moia ok allora inizio dalla prima e dalla più vecchia che sono quelle che ci avete inviato allora il documento relativo alle piste di controllo è in particolar modo in merito alla sezione rendi contazione e liquidazione allora le piste di controllo sono un documento che viene diciamo richiesto dalla commissione europea avendo noi un sistema FEG in cui inserite tutti i documenti è chiaro che la maggior parte delle cose sono già lì quindi l'unica cosa che dovete fare soprattutto nella sezione rendi contazione e liquidazione è inserire la sezione in cui le avete messe nel FEG ad esempio non so relazione numero 1 relazione numero 2 rendi conto inviato il eccetera per quanto riguarda la liquidazione invece vanno indicati gli estremi di come avete liquidato i project partner ad esempio però le piste di controllo non devono farvi problemi nel senso che sono un documento che va compilato indicando soprattutto il periodo in cui avete diciamo messo i documenti online e poi insomma dove tenete i documenti del progetto ma non non è necessario perderci troppo tempo va bene quali sono le tempistiche della nuova programmazione non so se qualcuno vuole prendere la parola anzi scusate rispetto alla domanda prima non so se qualcuno vuole prendere parola e chiedermi qualcos'altro se no insomma a posto così posso? sì per favore accendere la videocamera sì ok Tomei Visfrim prego buongiorno dottoressa no io il dubbio che avevo era sul contributo dei singoli partner perché poi alla fine noi abbiamo indicato visto che abbiamo già presentato il documento le sezioni nel FEG io poi ho aggiunto una tabella con il numero di protocollo di stanza di ciascun partner su ogni rendicontazione va bene è più che sufficiente il contributo del partner deve essere appunto in questo senso dove tengono le cose se sono fisiche o se hanno un server indicare magari che è responsabile se volete ma in realtà noi abbiamo tutto in FEG quindi è abbastanza però è un documento che la commissione desidera avere l'importante è che sia uno per ogni partner siccome purtroppo il documento non contiene una sezione in cui indicare chi lo sta compilando vi prego di indicarle nel nome file di chi è la pista di controllo perché perché noi l'abbiamo presentato unico di progetto no uno per ogni partner va fatto allora le chiederò l'integrazione ok va bene ma lo può già cominciare a preparare e perfetto a posto così allora anche le piste di controllo che poi comunque il contenuto uguale però dipende a volte no no perché se qualcuno ha fatto delle attrezzature oppure ha acquistato delle cose diverse dovrebbe bilicare dove le tiene eccetera ma però non appunto non è fondamentale come documento lo dico sinceramente va fatto però abbiamo tutto nel FEG e nella relazione ok grazie allora prego quali sono le tempistiche della nuova programmazione non non a parte che non è la sede ma se intendete le tempistiche del ciclo noi le abbiamo ancora diciamo decise fino alla fine più o meno sono le stesse comunque cioè il sistema è il sistema GEMS che è un po' diverso ma saranno comunque semestrali rendi conti e è molto probabile che manteniamo le stesse tempistiche cioè 2-2 mesi dall'ultima certificazione però appunto i progetti sono appena partiti quindi i rendi conti saranno probabilmente semestrali per quanto riguarda la relazione finale adesso ragioniamo perché stiamo ragionando se fare come adesso una relazione piuttosto che usare il GEMS è ancora presto ah qui posso adesso questa è la risposta che cosa significa pista di controllo dobbiamo allegare tutti i documenti collegati con gli appalti pubblici per tutti i partner no spero di aver già risposto nella precedente domanda la pista di controllo è un documento che trovate nella sezione del sito che riguarda l'attuazione progettuale in questo documento dovete inserire tutta una serie di documenti di informazioni che sono già contenute nel sistema FEG ad ogni modo va riportato in quale sezione del FEG si trovano i vari documenti le varie informazioni che cosa bisogna fare per la pista di controllo in merito ad esempio alle richieste di pagamento quando sono state ricevute e quando sono stati liquidati i partner no dovete compilare soltanto quanto viene richiesto dalla pista stessa dove si trovano i documenti dove vengono conservati eccetera si sa già quando verrà attivato il portale per l'invio delle relazioni per l'ultimo delle relazioni finanziarie per l'ultimo periodo per i progetti che sono già terminati no si presume ogni sei mesi come adesso è vero che per gli ultimi progetti ancora in corso va detto che stiamo pensando di attivare un'ulteriore finestra ma non sappiamo ancora quando oltre alla scadenza abituale di settembre forse ce ne sarà un'altra ma al momento non abbiamo certezze quindi in ogni caso entro quella data deve concludersi il progetto altrimenti più o meno le domande sono state tutte risolte credo e non lo so se volete fare qualche domanda io più o meno ho finito e io ho alzato la mano scusi prego Geo Maria Luisa Pessinotto Pessinotto Regione Veneto ho provato a scriverla ma accetta pochi caratteri il link che avete dato allora io chiedevo questo io ho comprato dell'attrezzatura ho già fatto la dichiarazione del dirigente sul mantenimento per cinque anni solo che io con questo progetto ho cambiato quattro dirigenti in un anno e quindi la mia domanda è se posso ottenere buona quella dichiarazione o devo rifare tutte le dichiarazioni con la firma del nuovo dirigente allora avete scusi avete già spedito la relazione no GeoCars no e voi no io ho avuto la cellula convalida il 29 marzo e quindi adesso la dichiarazione dovrebbe essere del diciamo firmata del direttore che c'è al momento dell'invio della relazione sì e invece la dichiarazione l'avevo fatta al momento dell'acquisto giustamente no la dichiarazione del vincolo va fatta adesso vabbè allora rifaccio tutto a nome di un nuovo dirigente mi dispiace che non dovrebbe cambiare nei prossimi due mesi per cui ecco facciamo così poi comunque la dichiarazione di vincolo deve essere fatta per cinque anni una volta all'anno quindi riceverete un'email dal JS in cui vi ricorderemo che va fatta quindi comunque le dovrà rifare questo vale per tutti eh che vale per il lead partner principalmente però le attrezzature le abbiamo date scusi incomodato d'uso ad un comune quindi ma va bene ma questo è assolutamente corretto però chi è il proprietario deve assicurare il il vincolo di destinazione per cinque anni grazie prego vedo una mano alzata o no altre mani alzate no io spero di essere stata chiara posso chiedere sulle tempistiche dei pagamenti allora voi perché il salvo è legato alla relazione finale ed è il 10% ah più prima prima diciamo così dicevo pure il precedente perché noi l'ottavo l'ultimo periodo di rendicontazione ancora non l'abbiamo ricevuto indipendentemente dal saldo eh dipende dal first level control di solito il first level control si prende al massimo 90 giorni quando è che avete spedito? no 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 ma abbiamo a gennaio fine gennaio bene e avete ricevuto la convalide ci avete mandato la richiesta di rimborso adesso con la relazione no l'abbiamo rimandata adesso ma avevamo mandato già tutto a fine gennaio eh solo per dare spiegazione ai partner non l'ultimo periodo di rendicontazione come gli altri precedenti è stato fatto a fine gennaio però lei sta aspettando il penultimo e quello arriverà a breve sì non in saldo stiamo parlando dell'ultima relazione sì esatto dovrebbe arrivare a breve allora perché i tempi sono quelli se avete spedito a fine gennaio sì ok ok grazie va bene prego dicevo che tutti i documenti sono diciamo appunto sul nostro sito posso mettere schermo sul nostro sito internet no nella sezione attuazione progettuale nel vecchio sito fate attenzione sempre al nuovo url che vi abbiamo mandato via email qui nel nostro sito in fondo c'è appunto la parte di relazione finale e qui trovate l'allegato trovate in fondo i documenti dei beneficiari tra cui la dichiarazione covid la pista di controllo insomma trovate tutto in questa sezione se ci sono problemi potete comunque scriverci insomma le relazioni le controllo tendenzialmente io assieme ad altri colleghi e l'obiettivo qual è? l'obiettivo è non chiedervi l'obiettivo è non chiedervi delle integrazioni e poter pagare subito il saldo abbiamo fatto questo evento proprio per cercare di darvi più informazioni possibili affinché possiate fare una relazione finale il più completa possibile perché chiedere integrazioni fa perdere tempo perché finché non le ricevo non posso mandare avanti il saldo ed è un peccato e soprattutto fate attenzione al sito internet perché qui come come diciamo obbligo è verificare che sia tutto a posto perché una volta che il progetto è chiuso e siete saldati noi non vi vediamo più e non riusciamo più ad avere le informazioni aggiornate quindi di quello blocca molto vi prego di di cercare di essere più attenti possibili di scriverci casomai una mail o di chiamarci se avete dei dubbi affinché possiate poi allegare tutto il necessario e io vi posso io non io insomma il programma può concludere saldare il prima possibile questo webinar è registrato vi ringrazio dei ringraziamenti quindi sarà nella solita sezione del sito dove vi otteniamo tutti i tutorial che rimanda appunto alla nostra pagina youtube in questo modo potrete farlo vedere ai partner riguardarlo se avete dei dubbi eccetera io avrei finito non so se i colleghi vogliono dire qualcosa Sandy o gli altri se sono presenti altrimenti io concluderei qui il webinar e vi ringrazio ancora della della vostra presenza ricordatevi sempre che siamo qui appunto a vostra disposizione nel nostro lavoro quindi piuttosto una mail in più che un allegato in meno grazie a lei arrivederci buona giornata a tutti grazie arrivederci ringrazio ringrazio anche le traduttrici a tutti